Noi avremo, molti mi chiedono, quando avremo finalmente una donna generale in Italia? E noi ci arriviamo nel 2028-2029, intorno a quegli anni, perché per diventare generale l'avanzamento comporta che fino ad un certo livello tu vai avanti per anzianità, ma da un certo grado in poi ci sono le commissioni di avanzamento e tu devi avere fatto un numero di anni di comando, diversità di esperienze, quindi non è che arrivi a essere generale per un concorso, c'è nelle forze armate un processo, poi scegli, ma c'è un processo, un percorso per cui ci vogliono un tot di anni. Io sto cercando di capire due cose. La prima è come la maternità non diventare un impedimento per fare carriera, non perché normativamente questo ci sia, ma perché se io sono comandante di una nave e la mia nave deve essere mandata in missione fra tre mesi e io sono il comandante e rimango incinta, io quel comando non lo posso fare. E questo, diciamo, mi toglie uno di quei pezzi che mi consente poi di arrivare al vertice. Allora io devo riuscire a mettere dei correttivi perché questa cosa non avvenga, per cui devo fare in modo, anche se ci sono delle regole interne per cui tu comandi quella nave che deve essere messa in quel periodo, però bisognerà fare in modo che ci sia un'altra nave che può essere, cioè come dire, che ci sia l'impiego della stessa o che si modifichi l'organizzazione interna perché non deve essere un impedimento alla maternità.